Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. E' appena arrivata una notizia che sta inferocendo gli italiani, dal momento che si sta facendo sempre più strada l'ipotesi dell'ennesima sforbiciata alle pensioni medio-alte. Lo scostamento di bilancio per il 2024, approvato da Camera e Senato, che ha ricevuto il no di tutte le opposizioni, vedrà un disavanzo di 15,7 miliardi e, ovviamente, si sperava che potessero, in parte, essere destinati ai pensionati. Ecco che è arrivata la triste notizia. Questi soldi andranno tutti nelle spese per la guerra in Ucraina, per le misure rivolte al personale della pubblica amministrazione, per la gestione del flussi migratori, la conferma del taglio già in essere del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi fino a 35.000 euro e per il conguaglio anticipato dell'adeguamento Istat per le pensioni. In soldoni, in questo disavanzo di 15,7 miliardi non ci sono risorse per la riforma del sistema pensionistico, che dovrà, ancora una volta, pazientare. Capiamo bene quanto questo scenario sia davvero pazzesco, mandando in bestia i pensionati italiani che sperano in un ravvedimento da parte del governo Meloni. E voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti, se vi va!